salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video dei manecidi petardi quest'oggi andremo a fare il test della fontana effetto luce della borgo nuovo già da come dice il nome capiamo che questa fontana ha un effetto di fischio e quindi anche un effetto luminoso quindi possiamo passare al test a 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